Finisce il Reti Bianche 0-0 come all'andata il big match della giornata tra Real Montepaone e Vigor Lamezia. Mister Viterbo, una bellissima partita, avete combattuto e volevate vincere sia voi che il Montepaone. Alla fine forse avete rossicchiato due punti al San Calogero che intanto ha perso. Un punto, un punto. Però comunque oggi è stata una partita di calcio, finalmente, perché abbiamo incontrato squadre dove tutto si poteva parlare tranne che di calcio. È stata una partita aperta, due squadre fisicamente e tatticamente preparate. È stato come vedere due pugili. Da una parte e dall'altra cercavamo di farci male tutte e due, però comunque il risultato è giusto perché il nostro portiere ha fatto due parate, noi non abbiamo approfittato di un paio di situazioni favorevoli. Abbiamo battuto, non ricordo neanche quante palline attive tra calcio d'angolo e punizione laterale. Siamo stati poco precisi alle palline attive, però, ripeto, oggi, nonostante il pareggio, mi sono divertito. Non capita spesso. È la stessa sensazione che abbiamo provato dalla tribuna. Posso esprimere una preferenza calcistica per Maluccio, che mi è sembrato che da centrale ha giocato alla grande. Sì, Maluccio sta giocando da centrale da inizio campionato. Lui è un centrocampista, però per l'intelligenza tattica e per la tecnica l'ho adattato centrale e sta facendo un ottimo campionato. Però, comunque, devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, sia dei nostri che del Montepaone, perché è stata una bellissima partita combattuta, tecnicamente valida. Ripeto, è stato un piacere venire a giocare a una partita di calcio qui a Montepaone. Un'ultima battuta, San Caloggio, Vigor Lamezze e Montepaone. Chi è che non farà i play-off? Spero noi, però comunque, anche se hanno sette punti di vantaggio su di noi e ipoteticamente cinque sul Montepaone, comunque, sinceramente, io li ho incontrati e abbiamo visto un paio di partite anche qui in zona. Montepaone e Vigor Lamezze hanno sicuramente qualcosa in più. Loro hanno avuto una partenza a razzo, oggi so che hanno perso, quindi le prossime cinque giornate diranno tutto, perché ci sarà Vigor Lamezze e San Caloggio, Montepaone e San Caloggio, quindi lì penso che si possa decidere il campionato. In bocca al lupo e complimenti. Crepi e grazie. Ed eccoci ora con mister Pisano. Di solito, se si parla di 0-0, si parla di partite noiose. Invece abbiamo visto una bella partita con due allenatori che hanno giocato a scacchi, cercando di fare un sacco di mosse e alla fine si sono annullati a vicenda. Sì, diciamo che è stata una partita come già pensavamo e ci aspettavamo, una partita difficile, una partita bloccata, come è stata anche all'andata, infatti è lo stesso risultato dell'andata. Abbiamo cercato di mettere in difficoltà Lamezze su quelle che secondo noi erano i loro punti deboli. Abbiamo creato qualche occasione che è abbastanza nitida anche, però purtroppo non siamo riusciti a segnare. Però sono contento della cattiveria che è la mia squadra, calcistica ovviamente, che è la mia squadra messa in campo, dell'intensità che c'è stata, perché sia Lamezze sia il Montepone e credo che abbiano fatto da questo punto di vista un'ottima gara, forse meno dal punto di vista tecnico, perché ho visto tanti errori che solitamente noi non facciamo. Però sono contento della prestazione di tutti. E dalle tribune non sembrava una partita di prima categoria, ma dall'eccellenza in su, quindi significa che i valori ci sono in entrambe le squadre? Sì, mi è sembrato di vedere una gara di categoria superiore, sono contento per questo. Sì, i valori sicuramente ci sono, loro sono una squadra attrezzata per vincere in anticipo il campionato, si ritrovano ad inseguire. Noi, questo è il secondo anno che ci ritroviamo nelle parti alte, quindi vogliamo assolutamente rimanerci con tutte le nostre forze. La stessa domanda che ho fatto a mister Viterbo, San Calogero, Vigor Lamezze e Montepone, chi è che non farà i play-off? Eh, questa è una bella domanda. Poi vedremo, te lo dico alla fine, quando finisce il campionato, guarda, io posso dire soltanto una cosa, noi non molliamo fino alla fine per una questione proprio di mentalità, perché abbiamo acquisito una mentalità ormai che ci porta a dover lottare fino alla fine, anche se questa squadra non è partita con l'idea di doverlo vincere questo campionato. Ormai noi ci giochiamo parito dopo partito, quindi vogliamo stare sopra, i ragazzi sanno che dobbiamo rimanerci, perché c'è una consapevolezza da parte di tutti. Oggi avevamo tanti motivi per portare a casa una vittoria, perché ci tenevamo a regalarla a un nostro carissimo amico che è venuto a mancare, che è Nicola Grande. Purtroppo non siamo riusciti a dedicarla né a lui né al nonno di un nostro ragazzo tesserato, che è Posella, e ci tenevamo tanto, ma siamo pronti per rimetterci in marcia da martedì, per regalare qualcosa di ancora più importante a tutti. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.